Questo è un nuovo episodio di Cassonetti da Incubo e io sono il Cassonetto dell'Acciaio! Altola! Ma non lo sai che questi sono barattoli che contenevano materiali pericolosi e infiammabili? Mi vuoi fare la pelle? Colla! Anche no! Come non attacca, sai, carina! Solvente? Fallo sparire! Vernice? Ora ne ho proprio i avvisi di tutti i colori! Come te lo devo dire, no smacchiatori e no trielina! Anche l'insetticida spray! Ora mi fa esaltare la mosca al naso! Ancora? E questa che roba è? Olio minerale! Mi vuoi proprio dare l'estrema unzione? Questi sono tutti i tipi che hanno avuto un passato pericoloso! Non voglio averci niente a che fare! Portali tutti nelle isole ecologiche oppure nei centri di raccolta! Dieto front! Avanti! Marsch! 孩子 Puio semb faithful! Comporti ci sono moltissà! No! Putain rakito di fare la mosca! Pochondo mighti per farcilare la nostra magari adesso! Vatican Elsa! Etc коли beivece delle nuotllie... LE? Vi ac melon! Si hills! Qui ricetta!